Musica Gentili telespettatori di Irpini Asanio TV, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa dello sport di oggi. Mercoledì 17 dicembre 2014, Napoli, Avellino, Benevento e Sidigas, gli argomenti che andremo ad approfondire anche oggi sui nostri tre giornali provinciali. Come di consueto partiamo dall'edizione nazionale del mattino diretta da Alessandro Barbano che dedica un richiamo in prima, spalla destra, alla polemica dell'Aventis. Tifosi piagnoni ma non lascio il controcampo, è quello come al solito di Maurizio De Giovanni che mette in chiaro una cosa tifo, pago e mi lamento. È il titolo molto eloquente del fondo De Giovanni il quale reclama appunto il diritto del tifoso a lamentarsi dopo aver pagato il biglietto. Napoli strigliata di Natale, le cose devono cambiare, dice De Laurentiis, doppio appuntamento ieri per il patron del Napoli. Nel pomeriggio la presentazione del film di Natale all'Hotel Vesuvio, come leggiamo nel pezzo di Pino Taormina, e in serata a Villa d'Angelo al Vomero per la cena tradizionale per scambiarsi gli auguri di Natale con la squadra e tutto lo staff. Io non mollerò mai la squadra, non la mollerò mai a nessuno, adesso ci rinforzeremo mentalmente e nell'organico. Una stagione è formata da vari momenti, ma i conti si fanno alla fine, dice De Laurentiis. Noi siamo fiduciosi, però ai botteghini prevale il disamore, l'anno solare al termine, quindi si fanno un po' i conti, li fa Gianluca Agata, si fanno un po' i conti su spettatori e incassi. La partita con più spettatori, 56 mila, oltre 56 mila, è quella con la Samp dello scorso 6 gennaio, ma il Napoli nel 2014 ha raggiunto la peggiore performance da quando gioca stabilmente nelle competizioni europee con il punto più basso toccato una settimana fa nella gara contro lo Sloman Bratislava, soltanto 6 mila, i paganti. Mercato sempre più vicino Strinic, pronto all'inizio di gennaio arriveranno probabilmente il terzino croato e la punta Manolo Gabbiadini. Probabile anche l'arrivo di un centrocampista, alcune voci danno in uscita addirittura Gokhan Inler al Besiktas. Passiamo al quotidiano del sud, quotidiano del sud diretto da Gianni Festa. Vincere per rilanciarsi di nuovo la gara contro il Bologna, chiaramente parliamo dell'Avellino, sarà uno spartiacque per la stagione. Eli Chiosa e Vergara, scrive la redazione sportiva del quotidiano, sembrano ancora non essersi inseriti a meraviglia nei meccanismi di Rastelli. Una vera e propria involuzione si è verificata anche sulle fasce, dove Bittante e il Beppi Pietricciolo non hanno dimostrato ancora di essere all'altezza di Zappacosta. Lo stesso Antonio Zito, giunto all'ombra del Partenio come un colpaccio, sta deludendo le aspettative. È lo stesso Rastelli che gli preferisce l'ex cremonese Pietro Visconti. E domenica appunto arriva il Bologna di Lopez, squadra costruita per la promozione, che può contare su giocatori di grande esperienza e spessore come Caccia, Matusalem ed Acqua Fresca, e su alcuni giovani molto interessanti come Laribi e Succulini. Lo stesso Zito suona però la carica, bisogna essere positivi, ci riprenderemo presto, dice in conferenza stampa. Non sono Ibrahimovic che deve risolvere le partite con i gol. Le aspettative sul mio conto mi hanno fatto piacere, ma i miei compiti sono altri. Ci sono cose che noi viviamo, stiamo passando un momento delicato. Alcuni di noi non sono al top della condizione, il sostegno dei tifosi veri si è sentito anche nella partita contro il Crotone. E in basso leggiamo che il giudice sportivo ha graziato Rodrigo Eli, quindi che non verrà quindi squalificato. Stop invece per Schiavone e D'Angelo, per somma di ammunizione erano in diffida, hanno ricevuto una ammunizione e andranno in squalifica. Taccone senza l'ok del comune è pronto a realizzare lo stadio altrove. La società vanta crediti da parte del comune per oltre 500 mila euro, risorse e spese per effettuare interventi richiesti e poi autorizzati dall'ente comunale, dice Taccone. Il nuovo stadio partiene Lombardi sarà realizzato altrove, fuori città sono presenti alcune zone in cui è possibile realizzare un impianto ex novo. E' la, se vogliamo chiamarla così, la minaccia di Walter Taccone, presidente dell'Avellino. Andiamo al basket, alla Sidigas, siamo sulla strada giusta. Stefano Bizosi, che è uno dei assistant coach di Vitucci, promuove il cammino della Sidigas, chiamata a ripetersi nella prossima gara di Pistoia. La vittoria contro la CEA Roma, 74-70, giunta negli ultimi minuti, ha denotato un certo cambio di rotta quanto a concentrazione e voglia di lottare. Fino all'ultimo secondo, questa è proprio la domanda che gli fa Davide Basilice, dice può essere un segnale di fiducia per i prossimi impegni? E lo spero vivamente, spero vivamente che questi due punti contro Roma possano darci la giusta spinta perché vincere aiuta tantissimo dal punto di vista del morale, ci dà consapevolezza della nostra forza e una carica emotiva importante facendoci guardare al futuro con maggiore serenità. Chiaramente ci sono anche gli avversari, la domenica ogni gara diventa una sorta di piccola battaglia. Cincerini è un giocatore che fa la differenza a certi livelli, dice lo stesso Bizosi, mentre in taglio basso leggiamo Dianga e Anosic, convocati alla Serata delle Stelle che si terrà il 17 gennaio, sabato 17 gennaio, al Palo Olimpia di Verona, all'All Star Game. Andiamo su otto pagine, il quotidiano diretto da Luciano Trapanese, andiamo direttamente all'interno, andiamo a leggere la pagina dedicata al Benevento, il ritorno del Capitano. Settimana di ritorni e di esordi in casa Sannita, scrive Sonia Alantella, Melara e Piscitelli dovrebbero essere della partita col Cosenza e l'ex duinese D'Agostino dovrebbe finalmente giocare la prima in giallorosso. Sta bene anche Allegretti che è andato in panchina contro il Messina e ora è utilizzabile il Benevento. Troverà, come detto per la prima volta questa settimana, Gaetano D'Agostino, il centrocampista palermitano, alle spalle 212 gare nella massima serie, è pronto all'esordio nella squadra giallorossa. Pochi dubbi sul suo utilizzo, considerata anche la squalifica di Daniel Aghiei e considerato anche, aggiungiamo noi, che D'Agostino si sta allenando con i Sanniti ormai da tre settimane. Leggiamo anche le dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore ex Siena-Udinese-Fiorentina. Ho praticamente giocato con tutti i moduli esistenti e non credo che avrò problemi a fare quello che mi chiede il mister. Un auspicio che è l'auspicio di tutti i tifosi del Benevento, considerato che il reparto nevralgico è stato, soprattutto nelle ultime gare, uno dei punti deboli della squadra. Sottotono, Vitiello e Aghiei che hanno tirato però, bisogna dirlo, la carretta fin dall'inizio del campionato. A pagina 33 vediamo invece una curiosità, che è una curiosità di solidarietà, la solidarietà dei giallorossi tra i piccoli malati dell'ospedale Rummo. Ieri sera una delegazione del Benevento nel reparto di pediatria, l'emozionato Melara, una bimba di tre anni, ed è in questi momenti che mi rendo conto di quanto sono fortunato. C'erano lo stesso Melara appunto, Eusepi, Marotta, Celiac, Lucioni, Scognamiglio, Bassini, Aghiei, Vitiello, Canutea, Alfacheme che come vediamo dalle foto erano vestiti da Babbo Natale e hanno portato doni e un po' di gioia e di serenità ai bambini del reparto pediatria del Rummo di Benevento. Era l'ultima notizia, noi vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamento a domani alla stessa ora con la rassegna stampa dello sport a cura della redazione giornalistica della nostra voce.info. Grazie a tutti.